Un raduno ciclistico finalizzato alla beneficenza, promosso dalla diocesi di Sulmona Balba ed organizzato dalla PAMIT Bike Team. La pedalata della speranza, questa l'idea. Presente il vescovo di Sulmona, Monsignor Michele Fusco, il quale ha partecipato in bici. L'evento si collega ad una grande iniziativa nazionale cui hanno aderito tutte le diocesi italiane. Prima della partenza il vescovo ha recitato la preghiera del ciclista. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Intanto voglio ringraziare tutti coloro che hanno organizzato. L'aduno alle ore 15 in piazza perbiscito a Sulmona, dopo le operazioni preliminari, alle 16 la partenza. Il corteo di bici si è notato per le strade di Sulbone per poi proseguire, secondo il percorso stabilito, con varie tappe. Prezza, Raiano, Corfinio, per poi concludersi a Prato la Peligna, presso il santuario della Madonna della Libera, dove il vescovo ha benedetto i ciclisti partecipanti. Allora siamo giunti alla meta, qui al santuario della Madonna della Libera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amico. O Gesù, tu sei il Signore, il nostro Salvatore. Se la meta è il traguardo della mia vita e della vita di ogni uomo. Siamo qui per questa pedalata della speranza. La dedichiamo in particolare a Puglielli e Ranalli, queste due persone che tanto hanno fatto bene per il nostro territorio. Ranalli ci è dispiaciuto, lui doveva partecipare, era uno degli organizzatori di questa pedalata. Ci sosteremo in varie comunità parrocchiali, le quali hanno fatto una raccolta anche di viveri per i più bisognosi. Ci sarà la Caritas con noi a raccoglierli e questo è un bel segno. Questa pedalata che raccoglie un gruppo di persone che con noi faranno questo percorso, vuole essere un momento di speranza, per dare al nostro territorio questo segno di speranza, sia nello sport, perché lo sport forse a riprendere con tutti i suoi limiti e le situazioni. E questo momento vuole raccoglierci insieme, mettere insieme più comunità, proprio in questa giornata, oggi è la festa della Madonna della Neve. Arriviamo a Pratola, dove c'è una cappella della Madonna della Neve, e lì poi più del tardi celebreremo anche la Messa verso le 9. È un'idea innanzitutto che è venuto al nostro Vescovo Monsignor Fusco, che poi ha voluto condividere con noi, come segno di ripresa, un segnale positivo dopo la chiusura del Covid. Rientra nell'ambito di alcune iniziative a livello nazionale di tutta la conferenza episcopale italiana. A questo significato poi ne abbiamo voluto aggiungere uno noi, che era quello di fare una raccolta di beneficenza con la Caritas. Il percorso quale sarà? Allora, partiamo qui da Sulmona, per poi andare a Prezza, Raiano, Corfinio e Pratola. Toccheremo cinque chiese dedicate alla Madonna, e abbiamo scelto questo giorno perché qui nella valle, a Raiano soprattutto e a Pratola, si festeggia la Madonna della Neve, quindi abbiamo voluto legare a questo evento religioso anche questo momento sportivo e di condivisione. Chiara, allora partecipi? Sì, con molto entusiasmo ho deciso di partecipare a questa tappa, di questa passeggiata organizzata dalla Caritas di Ocicesana. Speriamo in bene di arrivare carichi fino a fine tappa. Qui c'è l'acqua da bere, forse è quella la cosa che in questo momento desiderate di più. Pratola vi saluta, siamo contenti che abbiate fatto questo giretto e che la Madonna della Libera aiuti tutti voi e le vostre famiglie.